Shopping, attrazioni, tradizioni e la classica tombolata. E' stato questo il mix di appuntamenti che ha visto protagonista venerdì 22 dicembre la Notte Bianca nel centro commerciale Mongolfiera Lecce. Un'apertura straordinaria dalle 9 alle 24 che oltre a Surbo ha visto coinvolti i 9 centri commerciali del gruppo dell'intera regione. L'appuntamento, giunto alla sua sesta edizione, ha visto protagonisti salentini in una corsa frenetica agli ultimi acquisti di Natale, ma anche dei bei momenti di aggregazione grazie alla tombolata nell'area centrale della galleria. Che a fronti di un acquisto minimo di 20 euro ha permesso ai clienti di ritirare una cartella per le tre sezioni di gioco dalle 19 alle 23. Tantissime partecipazioni quindi con una tombolata quest'anno più particolare. Quest'anno abbiamo una tombola un po' diversa dal solito perché non abbiamo i numeri ma abbiamo i simboli. Vi faccio vedere qua, abbiamo tantissimi simboli che saranno sulle cartelle dei nostri concorrenti. Abbiamo già 500 persone solamente alla prima manche e ne abbiamo ancora altre due da fare quindi siamo assolutamente emozionati. Un grandissimo successo. Sulle cartelle bisogna semplicemente mettere in fila i simboli che escono man mano con il nostro sistema elettronico. Chi vince vince buoni acquisto spendibili presso la Mongolfiera in tanti tantissimi negozi. Come ogni anno un grande successo. Una bella iniziativa, se non altro ci si passa il tempo diciamo no? E' andato vicino alla vittoria? Guarda e avevo cinque, mi mancava il sesto per vincere, la bicicletta purtroppo non ho avuto la fortuna. Signora come è andata? Insomma, bene bene, è andata bene. Vedo un sacco di cartelle. Sì, ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza, veramente, e quindi aspettiamo di vincere la seconda. Queste iniziative fanno bene anche per avere anche una bella serata di compagnia nel centro commerciale. Certo, certo, anzi ne dovrebbero fare di più di queste iniziative, veramente uniscono tutti e si diverte. Complimenti a chi ha organizzato questa manifestazione. Signora siamo pronti per la prossima masch? Certo. Com'è andata questo giro? Bene, abbiamo fatto il 6 però dopo non siamo stati sorteggiati. Una notte che ha visto nuovamente protagonista il centro commerciale mongolfiere di Surbu e ha permesso a chi, magari per pigrizia o per ragioni di lavoro, di acquistare i regali in tutta sedenità fino alla chiusura, magari passeggiando tranquillamente dopo cena in attesa della due giorni di festa. Grazie a tutti.